Ci siamo? Siamo pronti? O che c'entra questa stanzetta qua? Ah si è aperto! Puttana! Eravamo nell'ospedale. Jacopo ha detto che potrei trovare delle prove qui. Proviamo a dare un'occhiata in giro. Prendiamo la solita telecamera e il vocabolario. Mi faccio paura sinceramente. Sono appena arrivato, devo trovare delle prove. Ah ok, giusto. C'è una catena, magari posso romperla. E ho capito, sono appena arrivato e cerco delle prove. Non c'è niente. Ok, perfetto. Che cazzo è stato? Che cazzo devo fare? Secondo me o mi fa girare in tondo a caso, apposta, per poi incularmi a un certo punto. Sapete, questo gioco è bastardo. Chi è? Che cazzo è? Ah, questo non l'ho letto. Ah. 1946. Dopo la guerra. Eh, dozzine di bambini. Ah, sono entrati nei... Cosa sta... Cazzo, sta succedendo. Eh, dopo aver perso i loro genitori. Cos'è? Rendevano gli orfani dei militari. Cosa cazzo sta succedendo? Nooo. Oh no! Non è successo niente. E mi sono cagato addosso tantissimo. Ah, madonna! Che schifo! Il dottore dell'orfanotrofio è stato detenuto, insomma, per... Ah, per il traffico di organi per sei anni. Minchia! Ah, faceva diagnosi sbagliate apposta. Prendegli gli organi. Ah, devo andare a prendere... Lo zaino... Oh no! Ma no! Che ho capito. No, ragazzi. No, ma io non ci arrivo a stanotte. In questo posto non vuole che me ne vada. Devo finire cosa ho iniziato. Cos'è? Ah, cazzo! Cos'è che ho preso? La sega circolare! Ma veramente? Eh, appunto, c'era anche l'altra. Eh, sì, eh! Eh, no! Sì, sì, no! Ma perché io mi metto a fare sti giochi? Ma figa! So che quello che sto facendo è sbagliato, ma non ho scelta. Devo salvare mio figlio Ivan. Io sono stato fortunato che Alexei ha accettato di aiutarmi. Non dovevo lasciarlo da solo. Nessuno dovrebbe sapere dei nostri affari. Porco! Oh, no, 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 no. Ma posso entrare? Ah, non mi fa entrare. Ah, ok. È una stanza. Ancora questo bambolotto. Qualcuno ci ha pisciato sopra, mi sa, eh. C'è un biglietto. Che schifo cazzo. Questa ha visto dei cadaveri camminare e ambulare in giro. Eh, dai, cioè, è inutile che tenti di aprire la porta. C'era la sega, guarda. Oh! No, eh, non mi fate scherzi. Sento rumori strani, dove devo andare? No, chi è? Chi è? Oh, signore del cielo. Chi è? Chi è? Puttana del leva. Leggi il foglietto. Non ho tempo per salvarlo. Non ci credo. Questo non può succedere. Non è la mia panecchia. Lo salverò. I need to find a donor oggi. Ah, devo trovare un donatore. Urgentemente. Chi è che mi sta rosicchiando dietro le orecchie? Divento un tacchino. Sto per tacchinare. Oh, sei liberato. No. Dove devo andare? Devo tornare nel mio zaino, forse. Proviamo. Interagire. Candela, niente. Sacco a pelo, no? Sacco a pirla. Ho capito. Non so cosa devo fare. Ah, ecco. Ah, certo. Dov'è che è la... C'è una catena da rompere. Ma non riesco a capire dove. Proviamo a ricominciare dall'inizio. Qua non c'è niente. Qua dire da uno sfondare. Boh. O che c'entra questa stanzetta qua. Ah, si è aperto. Oh, puttana. No, dai. No. Dai, ma chiuso te. Dai. E mo? Che par... E porco cane! Cos'è stato? Eh, non ho visto il jumpscare. Eh, oi. No. No, no. Se si comincia così, no. Io non ce la posso fare. No. Adesso solo jumpscare. Porca puttana. No. Forza e coraggio. Chi è? Che cazzo sta succedendo? Ma c'è un passaggio dietro? Oh, madonna del signore. Cadac... Merda! Come ha fatto a non decomporsi in tutti questi anni? Oh, madonna! E' scappato il cadavere. Ah, take. Posso prendere un biglietto. Qui ci sono i documenti del 1958. Alexei Sergeyevich, quella di cui parlava Maria, le ha risposto che non parteciperà per molto tempo a questo e ha rifiutato di lavorare con lei. La morte... Ah, il certificato di morte. Questo è suo figlio Iban. È morto nell'autunno del 1950. Apparentemente lei non poteva accettarlo, tipo, ed è diventata pazza. Ah, ha tentato di salvarlo. Ma era già morto. Ah! Cortello rituale. Ma porco! Chi gioca? Mamma mia! C'è qualcuno Adesso vado a prendere lo zaino E mi compare qualcuno Non c'è più lo zaino Però c'è anche una porta No che cos'è Tre settimane dopo Oh sono tornato a scuola Al campo Vediamo Ah qua c'era il bambino E' tutto chiuso di nuovo Vediamo Sta scrivendo Un altro biglietto Ciao Jacob Non devi essere spaventato Ok ho risolto il mistero del 58 Aiutato Jacob a trovare la pace E la libertà Bello Madonna Veramente mi sono cagato Facciamo late night mob Vedo fare Pugli eccessi Sei pronto? Scusa se ti chiamo così tardi Puoi andare a casa A dare una pulita Perché fa schifo Sì Devo andare in giro A pulire il sudicio Veramente Sì ho capito Ma figa Carta ci ha rotolata in mezzo Ma fammi vedere qua Se si apre Ma perché di notte Devo andare a pulire A casa di qualcuno Ma cos'è sto schifo figa Ma dagli fuoco C'è poco da pulire Sì ho capito Che porcile Però Porco cane Ostia Mi sono cagato Chiudi sta porta Ah no Basta Rimane aperta Adesso lui è bastardo Che mi fa pulire Tutto Io vado avanti E dopo mi compare Qualche Bestia Io lo so che a un certo punto Sono lì a pulire Alzo lo sguardo E compare qualche accidenti Qualche pezzo di mezzo Ma perché sento i rumori? No 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 questo l'avete sentito Stiamo avvicinando In un corridoio Che sinceramente Non mi piace Affatto Paura? No Mi sto andando A impelagare In un posto Che non mi piace Per me Ma io sento Dei rumori Comunque Io Non lo so Mi ha fatto paura Il gioco di prima La chiave La chiave Dell'ufficio Ah la chiave La porta E chi Chi cazzo c'è? Ma chi è? Questo è come quello Del babbo natale Non mi fa niente Ma mi fa paura Ah la chiave Della stanza Da letto Ehi Sta buono No 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 Io mi caso Perché questo Mi compare davanti Alla faccia adesso Chi Cazzo Me lo fa fare Chi Cazzo Stanza da letto Sarà di qua Pappori Pino 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 Ma che schifo Di casa Madonna Bastardo Però Ma secondo me Questo qua Che mi sta facendo Gli agguati È il proprietario Di casa Che mi tiene Controllato Ma io sento Correre ogni tanto Certo che puoi andare In giro al buio Accendi le Accendi le luci Porca troia Ma stai scherzando Ma veramente No 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 Cos'è che c'era sotto il letto No 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 Stai lì Hai capito Ho sentito camminare Eh le No 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 Non ti tiri No no Ma perché ti giri Ehi vattene Ma cosa ti giri Ma che investiga il noise Ma vada via al culo Te il noise Ah posso uscire A job well done Ending Ah c'erano due finali No ma mi devi pagare Vediamo Vediamo di fare altri finali Se andiamo verso il rumore Porco giudo Ma perché sono un cretino Bella la titti No pulisco qua e basta Porca troia Ma questo non c'era prima eh No Ah perché non ho finito il lavoro Pulisci Adesso devo Ah quindi adesso devo fare tutto Pulito perfettamente la casa E poi fare E poi andare A sentire il rumore E poi abbiamo fatto l'ultimo finale Basta Però Dovrei poter andare a casa Perché ho fatto tutto Invece No Click to leave No perché No non ho fatto qualcosa Cos'ho saltato Vabbè Fa niente Niente L'ultimo Dai Ma ha rotto il caso Vabbè 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 Grazie a tutti